Riprendono i lavori per la pista ciclabile più lunga d'Europa. Si tratta della ciclovia adriatica che con oltre 1700 chilometri di percorso ecosostenibile collegherà Veneto e Puglia. Ho convocato un tavolo permanente tra tutti gli attori, tutti i protagonisti intorno a questo progetto di fondamentale importanza per la nostra regione e quindi anche oggi siamo tutti quanti qui, proprio di Torato, l'impresa, la provincia di Chieti, ovviamente la regione per portare a compimento e dare la possibilità ai cittadini di usufruire di questa pista ciclabile, una mobilità sostenibile fondamentale come ho detto prima per tutta la regione Abruzzo. I lavori lungo i 151 chilometri di costa abruzzese erano stati interrotti dall'emergenza sanitaria ma ora riprendono anche in un'ottica di rilancio del turismo post-Covid. Vogliamo partire al più presso, c'è stato il momento del coronavirus che comunque ha rallentato i lavori, anzi bloccato i lavori, non ci possiamo permettere di ritardare nemmeno più di un solo minuto, vogliamo al più presso inaugurare anche piccoli tratti di questa pista ciclopedonale. È fondamentale per rilanciare anche l'economia di tutto questo territorio.